Amici telespettatori di Video33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Continua a tener banco la politica sulla scena locale, ma a quanto pare non solo, anche sulla scena nazionale. Non si è fatta attendere la replica del Presidente dell'Esecutivo Provinciale, Luis Durnfalder, al fondo apparso sulle pagine del Corriere della Sera Nazionale. Per il secondo giorno consecutivo le questioni altoattesine sono alla ribalta delle cronache nazionali. Stavolta a noi non si parla, come spesso avviene dell'Alto Adige sui tiro il quale modello da seguire per chissà quale motivo. Stavolta è purtroppo lo scontro etnico a tener banco sulla scena nazionale, niente di meno che sulle pagine del quotidiano più letto del bel paese. Sull'edizione di venerdì del Corsera il fondo di Galli della Loggia sulle contrapposizioni etniche particolarmente accentuate nell'ultimo periodo in Alto Adige. Il giorno dopo, sempre dalle colonne del quotidiano di Via Solferino, eccoti la replica firmata Luis Durnfalder. Il governatore altoattesino non nega la svolta a destra dell'elettorato, ma dice a chiare lettere che il partito di raccolta su Tirolese è una formazione politica assolutamente moderata e autonomista, ma che rifiuta i relitti fascisti. E al riguardo il presidente della giunta provinciale altoattesina chiede al governo un gesto distensivo per riuscire a risolvere la questione di quei monumenti che feriscono la sensibilità dei sottirolesi di lingua tedesca e che al contempo sono argomento che può essere utilizzato a dovere da chi vuole cercare la provocazione e la contrapposizione. Infine Durnfalder sul Corsera scrive che le continue minacce al sistema autonomista targato Alto Adige provenienti dalla capitale altro non fanno che alimentare il focolare delle destre e sono quindi deleterie per la convivenza nella realtà altoattesina.